L'intervento è troppo pesante così come progettato e deve essere localizzato per quanto possibile e questo è il succo delle prescrizioni che la sovrintendenza ha rilasciato al comune di Sulmona per i tanto attesi lavori di adeguamento sismico da eseguire sul liceo classico di piazza 20 settembre. L'atteso parere è stato notificato nella giornata di ieri e oggi stesso il progettista è stato convocato a Palazzo San Francesco per la revisione del progetto tenendo conto delle osservazioni della sovrintendenza da completare entro il termine dei 30 giorni. Da quanto si è appreso sarebbero almeno una decina le prescrizioni a progetto che ha ottenuto comunque il parere favorevole per l'esecuzione dei lavori fermo restando le modifiche richieste. Sostanzialmente come aveva spiegato in conferenza stampa l'assessore comunale lavori pubblici Salvatore Zavarella la sovrintendenza non vuole un intervento esteso su tutte le murature in quanto abbastanza invasivo ma che le osservazioni chiede di intervenire sullo storico edificio in maniera localizzata dove è necessario. Per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario ricorso alle somme aggiuntive. In cassa ci sono 4,2 milioni di euro. Il comune punta a far partire il cantiere per la fine dell'anno ma tenendo conto della burocrazia lumaca che si è vista negli ultimi 11 anni tutti gli annunci sono da prendere con le pinze. Ci crede l'assessore Zavarella che aveva annunciato l'arrivo del parere proprio in questa settimana. L'attuale amministrazione comunque non farebbe in tempo a tagliare il nastro perché qualora il nuovo cronoprogramma sarà rispettato il rientro nella sede storica non potrà avvenire prima di settembre 2021. La notizia è comunque da consegnare agli annali perché il parere favorevole si attende da oltre dieci anni.